L'Associazione dei Giovani di Confagricoltura Alessandria, conosciuta anche come ANGA, ha organizzato il convegno La Nuova Era dell'Agricoltura, la didattica in campo. Si terrà al Castello di Piovera sabato 2 giugno alle ore 16 in apertura della tradizionale festa dell'agricoltura che sarà l'indomani, domenica 3 giugno. Alessandro Calvi di Bergolo, presidente di ANGA Alessandria, moderatore del pomeriggio formativo, ha spiegato che l'intento di questo evento è il coinvolgimento di un target ampio, formato non solo dagli agricoltori e dagli operatori didattici in agricoltura, ma anche dagli insegnanti che si occupano delle gite nelle fattorie didattiche e del coinvolgimento degli alunni verso i temi legati alla natura e ai cibi e dalle famiglie cittadine che vogliono avvicinarsi in modo ludico, ricreativo alla campagna. Infatti, ripeto, lo scopo proprio di questo convegno, noi ci siamo presi l'impegno nell'ambito di questa festa dell'agricoltura che viene fatta tutte le prime domeniche di giugno di ogni anno nel comune di Piovera, proprio quello di creare degli temi stimolanti in modo tale da avvicinare sempre di più il pubblico, anche quello più esterno all'agricoltura, per sensibilizzare il mondo agricolo. Quindi quello proprio della didattica, cioè quello di avvicinare non solo ai bambini, perché la didattica poi sembra sempre ai bambini, ma anche ai grandi, la consapevolezza anche di quello che mangiano e di com'è fatto quello che viene consumato. L'altro target è quello delle famiglie, quindi anche i genitori possono avere la possibilità di portare i bambini alla domenica in tante realtà come quelle delle fattorie didattiche. Quindi sarà aperto a tutti? È aperto a tutti, chiaramente gratuito e poi finirà con un buffet offerto dalla Proloco.